credo che noi siamo veramente il paese più idoneo ad ospitare un evento di questo con una tematica così importante credo che la nostra cucina o nostra cultura culinaria non ha uguali in tutto il mondo durante la manifestazione vorrei prima di tutto incontrare gioia vedere la gente per strada non solo nelle classiche vie cittadine dove si fa lo shopping ma vedere le strade piene di gente come ci sono in altre città per me l'expo è veramente una grandissima opportunità che abbiamo la mia città la nostra città ma devo dire anche il nostro paese il nostro paese perché è un'opportunità di confronto un'opportunità di crescita e poi devo dire che anche un'opportunità di leadership il nostro paese come leader in questa materia deve assolutamente non aver paura avere coraggio di dimostrare a tutto il mondo quello che siamo che siamo molto meglio di quello che ci dipingono all'esterno devo dire nella mia infanzia arrivo da un paesino brianzolo fuori milano e la cassola della mamma devo dire che aspettavo anche perché era era un cibo che mi accompagnava tutta la settimana e sentono noi siamo non solo noi milanesi ma penso che tutta l'italia è ricca di cibi poveri straordinari che tante dalla pizza che è un cibo povero alla panzanella la cassola sono dei cibi veramente straordinari Grazie 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 Grazie